ok va benissimo comunque forse è meglio che scende presto perché domani già mi hanno chiamato un po' di persone che vogliono salire per pranzo eh no anche se ci fermiamo abbastanza cioè se facciamo prima è meglio anche quindi no 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 appunto cioè non lasciamo le cose lì a parte che sale Damiano con dieci persone e gli ha detto ma proprio domani devi venire a cagare il cazzo ha fatto nuovo posto un po' di amici ti saluta Leandro perché è passato oggi sì 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 mi ha prenotato per un gruppo e mi ha dato news sul corno piccolo la normale è quasi tutta pulita ci sono solo i canali della Danesi Spock questi sono i nuovi aggiornamenti in caso ti chiedano va bene ciao bello buona serata ciao 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 ciao